In questo momento mi trovo a termine di questo percorso naturalistico-culturale che ho effettuato in Lettonia. Spero che vi sia piaciuto a tutti quanti il paesaggio che vi ho fatto vedere. Questo qua è un cavallo di paglia. Come d'altronde, viaggiando per questi posti, per questi paesi, troverete tantissime rappresentazioni naturalistiche, sia reali oppure delle rappresentazioni artistiche, proprio come questo cavallo qua. Troverete il cavallo, la mucca, il coniglio, la gallina, perché la Lettonia è un paese caratterizzato da queste cose. Sul mio sfondo trovate delle giovani querce. Queste giovani querce stanno a simbolizzare, come da tradizione lettone, la potenza e la virilità. Ci lasciamo con questo bellissimo paesaggio e ci vediamo alla prossima.